2021. In ogni anno che si rispetti, si festeggia sempre Sanremo, festeggiando così ogni anno che passa con l'evoluzione musicale, perlomeno nel panorama italiano. Pensare ben 75 anni di musica e quindi ben 75 anni assieme a Sanremo. Sì, possiamo dire che negli ultimi due anni hanno sempre cercato di dare spazio a molti, molti artisti un po' più mainstream. Alcuni invece che avevano le carte in regola per diventare gli artisti del momento. O magari far diventare artisti che erano anni e anni e anni che facevano musica, ma che solo grazie a Sanremo hanno saputo effettivamente tirare il meglio di loro davanti a tutto quanto il pubblico. Mi viene in mente rancore, che l'anno scorso ha praticamente vinto Sanremo, ma solo con il premio miglior testo scritto. Si parla ovviamente della canzone Eden. Maledetta giuria, perché non gli hai fatto vincere tutto? Ma tralasciando Sanremo dell'anno scorso, concentriamoci su questo qua. Devo essere sincero, da questa edizione mi sarei aspettato praticamente il trash più totale. Che sì, un po' ce n'è stato, però, trash possiamo definirlo, sì, voluto e anche un po' fatto bene. Però a una certa un po' mi può stancare, devo essere sincero. Maledetta sinceramente si è rivelato molto molto meglio rispetto a quello che avevo pensato due giorni prima appunto dell'uscita di Sanremo. E non mi vergogno a dire che molte canzoni fatte da artisti che io neanche seguivo e che addirittura quando io sentivo in radio schippavo totalmente perché non è il mio genere, le ho sapute apprezzare. E quello che ho saputo apprezzare le definirei anche quelle più interessanti. Fortunatamente, sendo alcune delle star presenti in questa 75esima edizione di Sanremo, New Entry, hanno avuto la grandissima fortuna di essere accolti a distanza dai presentatori. E siccome Sanremo è formato da un pubblico, sì, principalmente per adulti, dato che la musica è in continuo sviluppo e quindi che allo stesso tempo la possiamo definire per ragazzini, ma al punto di vista del canale, che ovviamente è da lì che sono state lanciate tutte quante le puntate di Sanremo, adulti che ovviamente saranno anche accompagnati dalle grandissime battute a delle grandissime scene divertenti di Fiorella & Company, probabilmente molti di loro, ovviamente si parla degli spettatori, potranno farsi una buona idea di tutti quanti gli ospiti, o perlomeno non per forza positiva, ma magari una loro idea generale, che sì, possa essere anche negativa. Ma del resto bisogna conoscere un personaggio, bisogna conoscere una persona, un artista, quello che volete voi, per avere una propria idea generale. Se voi vi ricordate all'inizio del mio discorso ho praticamente detto che sì, alcune cose mi hanno sorpreso all'interno di questa 75esima edizione, sarremo alcuni in modo positivo, alcuni in modo negativo. Quella che sicuramente ancora molto di più mi ha sorpreso è stata ovviamente l'apparizione di Enzo Dong. Nulla contro di lui, ovviamente, ragazzi, essendo di parte anche campano, posso fare altro che apprezzare la sua musica, ovviamente non l'apprezzo semplicemente perché lui è di parte campano un po' come me, ma per il fatto che Enzo Dong, secondo me, a livello caratteriale, secondo me, anche a livello musicale, non si addice per niente al pubblico che al giorno d'oggi si mette a guardare, che ne so, alcune vecchie edizioni di Sanremo con vecchi clip dai fan, eccetera, eccetera, o in una qualsiasi edizione futura che possa essere del 76esimo o del 77esimo. Ma ricordiamoci, ragazzi, che in quest'ultimo periodo sta andando di moda sia il rap e sia la trap, che sì, andavano di moda anche ai tempi, però a giorno d'oggi con l'uscita di nuovi, nuovi artisti che sono diventati mainstream in pochissimo tempo, prendiamo per esempio Gali o Sferebasta, tra i migliori pionieri della trap in Italia, che hanno saputo mandare in radio molto più facilmente alcune ranzoni rap. Perciò non vedo il motivo per cui Enzo Dong non dovrebbe entrare. E per non parlare, ragazzi, di un artista che non è proprio una new entry, dato che praticamente lui è andato a Sanremo anche l'anno scorso, e quindi si è ripresentato ancora una volta in questa 75esima edizione, ragazzi, ma Achille Lauro, perché voi mi fate questo? Adesso, parliamoci chiaro. Sesto discorso per quanto riguarda Enzo Dong. Adoro la sua musica. E sembra strano perché addirittura molti sicuramente associeranno la trap e World of Music come cose che sicuramente non stanno né in cielo né in terra. Sì, avete ragione, per certi aspetti non mi piace, ma non vuol dire che alcuni artisti non mi possano piacere. Achille Lauro è uno tra questi. Lo so, probabilmente, molti di voi, e anche il pubblico in generale sarà abituato a molte sue nuove uscite che possano suonare molto simili a brani anni 80, 90, addirittura anni 70, che poi alla fine è quello che lui cercava di fare con molti suoi album recenti, anche se non li classificherei più come album, ma semplicemente come dei mixtape. E francamente, neanche qui mi dispiace così tanto. Parlo ovviamente uno che l'ha conosciuto tantissimo tempo fa con alcuni progetti tipo Barabba Mixtape, eccetera eccetera, dove lui cercava di trattare in maniera molto molto cruda l'argomento in questione, ovvero delle strade della propria città, i pericoli che si possono incontrare, ovviamente riprendendo lo stile di flow e di musicalità che andava di moda tra il 2012 e 2013, ovvero in quel periodo dove già in America la trap era diventata popolare. Grazie. Grazie.